Gli agricoltori protestano in tutta Europa e questo ci può trarre in inganno, cioè ci può far credere che le ragioni di questa protesta siano le stesse in tutta Europa, per tutti gli agricoltori. E qui invece c'è davvero un grande inganno in cui stiamo cadendo a piedi uniti. L'agricoltura non è la stessa nel nord Europa e nel Mediterraneo, sono due tipi di agricoltura che sono letteralmente all'opposto. Quindi tutto quello che va bene a quel tipo di agricoltura nord europea, di grandi pianure, di temperature più o meno basse, di sole che si vede a rate, di grandi estensioni e apporti della chimica, fa male all'agricoltura mediterranea, ovvero italiana soprattutto. Perché? Perché l'agricoltura mediterranea, lasciate perdere per un attimo la pianura padana e in parte il tavoliere, è un'agricoltura di piccoli appezzamenti, quasi sempre collinari se non addirittura montani, a coltivazione intensiva, ovvero prodotti ad altissimo reddito. La storia dell'agricoltura dice questo. La prima cosa, il primo made in Italy che andò in giro per il mondo, sapete cos'era? Erano prodotti agricoli del sud Italia, che dal regno delle due Sicilie valcavano l'oceano e venivano portati ancora freschi in America. Per fare questo, potete immaginare con le navi dell'epoca, e se non ti sbrigavi ad arrivare sui mercati ci portavi i vermi. Per cui furono costretti a fare delle navi velocissime. Il record di traversata dell'Atlantico era di una nave del regno delle due Sicilie, 26 giorni. Perché l'agricoltura mediterranea, meridionale, portava talmente tanto di ricchezza, di reddito, rendeva talmente tanto che si diceva che gli agrumeti intorno a Palermo rendessero più degli orti intorno a Parigi che andavano noti per, come dire, i prezzi. Questa è l'agricoltura mediterranea. Ora, la prima vittoria, fra virgolette, ottenuta, così ci hanno detto, così l'abbiamo sentito strombazzare da tutti, dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, fino ai telegiornali e persino ai rappresentanti di associazioni degli agricoltori. sapete che c'è una fortissima coldiretta da parte della base dei produttori contro la coldiretti. Qual è la prima vittoria? L'Unione Europea ha ritirato il suo provvedimento con cui si imponeva che nel giro di una decina di anni la quantità di veleni da buttare nei campi doveva dimezzare. E quindi la vittoria qual è? Che adesso abbiamo il doppio dei veleni? E questa la chiamiamo vittoria? Cioè, guardate che di quei veleni, nell'agricoltura meridionale, mediterranea, non serve quasi niente, perché abbiamo il sole. Un esempio, a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, tutti i vigneti del mondo vennero distrutti da una doppia ondata di parassiti, la filossera e la peronospera. Quanti sanno che i soli vigneti al mondo non attaccati sono in Italia? In pratica cosa succedeva? Questi parassiti attaccavano la radice della vite e distruggevano la pianta. Da allora, in tutto il mondo, le vigne piantate sono a piede americano, cioè la vite americana che ha una radice che non viene attaccata dal parassita, ma è infruttifera, cioè non ti dà l'uva. Per cui c'è il piede americano innestato a vite europea, che ha, come dire, il piede fragile, ma ti dà l'uva, ti dà il frutto. Tutti i vigneti del mondo sono fatti così. Noi abbiamo un tesoro inestimabile in Italia. Perché? Perché nei campi flegrei, cioè intorno a Napoli, essendo il terreno vulcanico, quindi ricco di zolfo, avevi dei terreni naturalmente antiparassitari, dove ancora oggi si producono vini di eccellenza stratosferica, da falanghina a piedi rosso, il famoso pere palumba. Questa è l'agricoltura mediterranea. Quindi le proteste di tutta Europa sono proteste che vedono coalizzate, degli agricoltori intendo, gli interessi dei grandi agricoltori, ovvero dei latifondisti, con quelli della grande industria chimica. All'agricoltura di eccellenza mediterranea viene danneggiata dalle vittorie di questi agricoltori che protestano. Ed è curioso perché le proteste le stanno facendo anche gli agricoltori mediterranei, ma le loro ragioni non vengono riportate. Per cui il successo dell'agricoltura in questo senso è la morte della nostra agricoltura specializzata, di qualità, l'eccellenza. Tutto quello che c'è di buono in agricoltura viene da quella fascia di latitudine in cui è il Mezzogiorno d'Italia. Perché? Perché quello che dà sapore, profumo, aroma a ciò che nasce dalla Terra è nell'insolazione, nel raggio di sole, la banda dell'ultravioletto. Il raggio di sole, diciamo, va dall'ultrarosso all'ultravioletto. L'ultravioletto è in basso. Quando l'ultravioletto è troppo e quindi, diciamo, verso l'equatore, tu hai che gli aromi, gli odori sono addirittura eccessivi, possono disturbare. Quando è troppo poco, cioè a nord della fascia che contiene il Mezzogiorno d'Italia, la produzione agricola è bella da vedere, da guardare, ma profuma e ha intensità di sapore minore, perché è minore la banda dell'ultravioletto. Queste particolarità sono uniche e noi le stiamo buttando a mare. si sta completando un folle disegno che risale a, almeno se non disegno, come dire, un modo di vedere le cose. A decine di anni fa, quando avevamo un importantissimo politico tedesco che è eletto al Parlamento europeo, che parlava della necessità di fare degli ulivi piante ornamentali del Mediterraneo, come dire, abbandoniamoli. Ora, se pensate che l'ulivo è inteso come la pianta identitaria del Mediterraneo, pensate che in tutto il mondo, per dire olivo o olio, olio non solo d'olivo, esistono solo due parole che derivano dalla cretese, nell'alfabeto lineare B cretese, la lettera E, è la ION, è un olivo stilizzato, è dall'arabo ZEITUM, per cui hai che sono, in Spagna olio si dice Azeite, che viene da ZEITUM. Ecco, in tutto il mondo queste due parole indicano l'olio. Non ne sono state inventate altre, eppure gli ulivi esistono in tutto il pianeta. Gli ulivi, ce ne sono 42 cultivare, anche in Australia, anche nel sud dell'Africa, ma solo in Mediterraneo sono stati domesticati. come li stanno uccidendo gli ulivi? Pensate che quando è stato Ministro dell'Agricoltura, Luca Zaia, attualmente presidente del Veneto, fece un accordo a nome dell'Italia, in realtà a nome dei fatti suoi, del suo Veneto, per cui l'olio che dovevamo, deve vendere l'Italia al Canada, deve essere Veneto. E quant'è l'olio Veneto? 0,4%. Io sono pugliese. In Puglia ci sono 60 milioni di ulivi, uno per ogni italiano. In tutta Italia ce ne sono 180 milioni. Un ulivo ogni tre è in Puglia, ma l'olio che l'Italia deve vendere al Canada deve essere Veneto? E dove lo prendono quell'olio? È chiaro che lo vengono a comprare in Puglia e lo spacciano come Veneto. Minimo che si possa pensare. O no? Quindi, come vedete, c'è un attacco concentrico contro l'agricoltura specializzata ad altissimo reddito del Mediterraneo. E cosa ne vogliono fare? Gli impianti fotovoltaici ci mettono pannelli e producono energia e poi magari mangeremo farina di grilli o carne coltivata in laboratorio. Buon appetito! Se pensate che gli accordi, per esempio, con il Canada e gli altri paesi hanno sempre penalizzato l'agricoltura migliore non d'Italia, del mondo! Quando è stato fatto un accordo con la Cina per tutelare 100 eccellenze agroalimentari agroalimentari europee 26 di questi 100 erano italiane ma tutte del nord meno una. Dal Canada arriva il grano che usa la nostra industria passaria. bene pensate che in Canada c'è una legge per cui oltre un certo livello di residui chimici nei cereali e anche nel grano non si può usare quella roba come mangime per i maiali. Il livello ammesso per l'alimentazione umana dalle norme europee è quasi il doppio di quello che è ritenuto immangiabile per i maiali in Canada e questo che stiamo difendendo con le proteste degli agricoltori bisogna come al solito guardare dentro le cose chiudo facendo intendere quanto sia violento l'attacco all'agricoltura storica ad altissimo reddito specializzata del Mediterraneo ovvero del sud d'Italia pensate tutte le autorità le autoriti europee che significano sedi soldi stipendi cioè non ce n'è una messa al sud tutti al nord nel famoso triangolo pigliatutto italiano delle Bermuda Lombardia Veneto ed Emilia Romagna delle autoriti di queste autorità ce n'era una destinata al sud giustamente a Foggia perché il granaglio d'Italia eccetera eccetera ed era l'autorità della per la sicurezza alimentare ci fu una campagna politica di stampa scatenata dalla Lega ma secondata dagli altri per cui questa fu l'unica autorità authority che venne definita ente inutile quindi tutte quelle al nord ok l'unica che doveva andare al sud era diventata inutile o per esempio le commissioni uniche nazionali che significa sono delle autorità degli enti per la fissazione dei prezzi dei generi quella per il grano duro doveva dovrebbe andare a Foggia ma sono otto queste kun si chiamano allora vediamo la prima dove la mandiamo Mantova eh vabbè la seconda la mandiamo al sud no dove la mandiamo Mantova e va meno bene la terza la mandiamo al sud no dove la mandiamo Mantova e la miseria 3 su 8 allora qualcosa mandiamo al sud beh dopo perché gli altri due a Parma e un'altra a Forlì e un'altra a Verona Lombardia Veneto Emilia Romagna qui stiamo parlando di una roba che parte nel 2017 nel 2024 quella destinata a Foggia sul grano duro non è ancora partita perché sembra che la voglia a Bologna ovvero il triangolo pigliatutto italiano delle Bermude come vedete all'interno di una protesta che sembra unitaria in tutta Europa ci sono degli argomenti che rendono diversa quella degli italiani da quella dei tedeschi quella dei tedeschi da quella dei francesi e in Italia quella degli italiani del sud dagli italiani del nord provate a immaginare chi sta perdendo la partita lo capite dai telegiornali sono quelli le cui ragioni non vi vengono raccontate non vi vengono non vi vengono le cui ragioni